Un'odissea senza fine, ora è proprio il caso di dirlo. Questa è una nuova puntata della saga Il Ponte Vecchio e la ditta Vardanega. I bassanesi sono avvertiti da lunedì e per due settimane il ponte resterà chiuso, non si passa. La ditta ha annunciato l'inizio dello smantellamento dei ponteggi, andando a stravolgere il cronoprogramma che era stato presentato all'inizio. Intanto i commercianti sono sul piede di guerra. Questa chiusura, inaspettata, mette in difficoltà l'intero comparto. Soprattutto chi gestisce alimenti. Noi siamo in difficoltà estrema perché una chiusura perpetrata per dieci giorni ci porterà ad avere delle grosse conseguenze economiche. Tutti quanti noi siamo dipendenti, abbiamo delle rate alimentari fresche, abbiamo comunque degli impegni economici importanti, gravosi, e non riusciamo a tenere testa a questi impegni se dovessimo tenere chiuso. I commercianti con fidi e bancari aperti, quelli con ordini in sospeso e soprattutto quelli che speravano di accogliere gli alpini di ritorno dalla Dunata. Per lo trovare chiuso è una cosa inaccettabile. Sta facendo di tutto per non portare avanti il progetto. Il riferimento è alla ditta, una situazione come sospesa. La rimozione significa per noi ripartire da zero, quindi non riusciamo a capire tecnicamente cosa sta accadendo. La prossima settimana i commercianti incontreranno nuovamente l'amministrazione. Intanto l'ultima notizia è che l'amministrazione comunale aveva ricevuto la richiesta da parte della ditta Vardanega di un incontro con il loro tecnico. Incontro che era stato fissato per questa mattina, ma che però non c'è stato. Il tecnico non si è presentato senza nemmeno avvertire.